cosa fai ne mangi bene? cosa fai? vedi cosa faccio? eh ma il brodo è più buono è ben mangiato ma perchè il brodo? no un po' d'acqua lo beviamo ma non è l'acqua il brodo? no mi piace allora se ti venisci devi mangiare facciamo il brodo si 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 e il brodo lo mangiamo il brodo lo lascio lì il brodo lo lascio lì da lui ti dà conti queste sono crue ma come sono crue? hai 5 minuti e li fai 20 minuti ancora un po' finisci il brodo ok allora che l'hai più fame? eh non hai più fame allora non ti va bene niente mmm 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 l'asartin fettin fa il mare della grav come è la mamma? va vieni la mia va vieni la sartina non vorrei che ti sforzassi troppo no lei non ti sforzassi troppo ma è tutta che identa è tutta che identa lei ma non dica su un gruppo vuol dire che forse su un troppo kett c'è scritto 3-4 minuti mi devi fare il mezzo e 5 minuti se voglio anche 5 e il tuo c'è quando hai ascoltato 20 minuti e finire il brodo ancora un po' sono due sono due a partire, sempre due mi devi sapere come volete vogliate in che parte nel cuocio ma cuocio perché? se si fanno così pure un po' non lo sdivido quindi neanche sono già due a partire tutti non vedo niente con l'inglese qui lì è già due a partire è perché mi piante la farciolina no 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 guarda anche qui lì è già due a partire guarda anche qui lì guarda già due a partire non è capito a capire cosa c'è il brodo perché c'è il brodo guarda 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 adesso la piccola anche hai eh e quando non la piccola cosa c'è? niente ah non c'è la piccola di scola nooo dai un altro pegnano basta ti do la colperia non vuoi la colperia? eh vabbè la colperia la mangio io io e Ugo dai gli amico ecco bravo Ugo mangiamo noi voilà sembrava che non c'era niente per te mangi il piccola si si come è andato? ah si no? eh ma no eccomelo non è spettato non è spettato non è spettato non è spettato ci provi? ci provi? mi fa giocare la mia tutta la bocca vuoi il piatto? vuoi il piatto? no le assaggi così? hm? 자는 il piatto? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.